Ho inviato oggi stesso in Vietnam la divisione aeromobile. Questa è la cronaca fedele di quanto avvenne nel novembre 1965 in Vietnam, nella valle di La Trang. Un nome che il nostro paese non ricorda più. Una guerra che non capisce più. Papà, cos'è la guerra? Negli uomini moriranno. Tirate fuori gli abiti migliori, signore. Dì al popolo americano cosa hanno fatto questi uomini. Per il ciclo Once Upon a Time, we were soldiers. Fino all'ultimo uomo. Domenica alle 21. Con Iris. Grazie.